Musica Bella ragazzi, bevoli di questo video, sono alle frenate 25 Oggi siamo qui su Somenimi parte 4, si parte 4, me lo ricordo benissimo E siamo qui, ci ritroviamo un po' nel luogo diverso da quello in cui ci ritrovavamo prima E... provo a entrare in queste porte perché ancora non ho ben capito dove devo andare Dove devo andare Qui dove siamo? Che cos'è questo? Xeoglob, questo è Dark Forest, ah sono i vari mondi, io come tolgo indietro? O Xeoglob Ok, quindi dobbiamo andare in Italia, il mondo a fianco, penso ci siano 4 mondi Dobbiamo entrare qua dentro, vero? Ok, sì, Outskirt, è il nuovo capitolo Ci sta, ci sta Quindi, you can now go back to Horizon 1 In any time by using Xeoglob Qui ci dice le varie abilità che abbiamo, possiamo anche disattivarle E 1, 2, penso ci siano questo e un altro mondo, poi penso sia finito Spero, spero, perché a volte è così E praticamente i livelli che stavo facendo prima servono a... ecco qua, a Brainy Questo qua è Brainy Ehm... praticamente siamo... Che cavolo stavo dicendo? Oddio, ho perso il filo del discorso Per esempio, i livelli di prima servono a guadagnare dei... cioè, le monete Per le abilità, no? Ok Che cos'è questo? Mi sono angry E' da mangiare, praticamente Ehm... Però è un po' strano Sono diventato rosso Is transmuter, transmuter through it Che cosa fa? Bouncy, non è che dobbiamo tipo... si può saltare questo coso, si può saltare di brutto Gre... special abilities Che figata! Quindi, noi con questo... possiamo... No, che figata! Troppo figo Praticamente possiamo saltare adesso dove ci sono... dove ci sono i fiori Possiamo saltare grazie a quello Che figata! Vorrei andare anche a prendere qualcosa là sotto Non è che qua... no, non c'è assolutamente niente Va bene, siamo morti come... come non mai Vabbè Molto bella questa cosa Cioè, nel senso, stiamo mettendo... nel vivo del... Sì, perché non si trasforma? Ah già, perché non è cosa... non è cosa rosso Quanto è figo questo... rosso Non si trasforma? Non mi è chiaro, ma è proprio questa cosa Posso saltare fino aoli dove ci sarà... Non si trasformare fino a lì da Ah, ora capisco... ora capisco... fammi così... Fammi così... fammi così... grazie Fammi fare così... poi... così così... non va... non va... andiamo se riesco a fare una cosa abbastanza non ci riesco fai così e ora? perché non si trasforma? non si trasforma no! che pizza devo capirla questa cosa se io faccio così lo faccio trasformare lo faccio ritornare lo faccio trasformare lo faccio ritornare faccio così 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 salto vado qua sopra faccio così e e così che cosa strana che cosa strana raga la cosa più facile è sempre la cosa più difficile è sempre la cosa più facile perché potremmo anche arrivare di là senza pubblicarmi la vita ed è questo che devo fare effettivamente però ci mettiamo troppo in queste cagate mie perché alla fine sono mie cagate però vabbè mi scuso per aver rifatto per le 3 minuti della vostra vita per ora però vabbè che cos'è sta roba? ehm possiamo saltarci di sopra? si possiamo saltarci di sopra no! non mi tornare indietro va bene però non posso andare di là ah 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 ehm ehm che mio padre che urla ehm che non so bounce cannon fire ehm no non si può fare ha rotto pensavo che l'aveste rotto questo launch vediamo se da sopra abbiamo possibilità di non possiamo andare da sopra questo potrebbe essere un bel problemino non ci possiamo neanche passare nata dei trampolini che non so bounce cannon fire posso rompere questi figata con troppe meccaniche difficili facciamo così 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 facciamo tipo una specie di scaletta riusciamo a scendere ok riusciamo a scendere ok dovrebbe io io schifo ok da sopra non posso arrivare Ie 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 Che culo Dov'è arrivare da sopra Fem Fem Siamo ancora arrivati Dov'è il traguardo E' lì come ci arrivi Dobbiamo ammazzare la pianta Allora dobbiamo ammazzare Suppongo Suppongo Ok passo Come si fa? No Si arrivo Aaaaah Potrebbe presentarsi un problema Come no Eh eh Un donapogenio Così E posso volare fino alla sopra Che pizza Che urlano Allora Non riesco a pensare Non riesco a pensare Gente che urla E io vado in palla Proviamo così E' un po' buffa come cosa Cioè è arrivato Aaaaah Aaaaah che si deve fare Morble 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 Comincio il rimo? No Non può arrivarci Non è che la sotto Non ci sia niente? Come si fa? Allora Sto andando un po' in crisi crisi esistenziale Che cosa si può fare? Ok Ok andiamo là sopra Perché magari il terzo coso serve a effettivamente sbloccarci Lui chi è? Sar di me Ok Ok Proviamo a vedere Pam Pam Proviamo così E se non va a buon fine A fare i nostri Alla fine A fare i nostri A fare i nostri Mmmmm Morble 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 Ok Ho capito Ma è la cosa più Elementale Che si sta su questo pianeta? Ora come si va di là? Eeeh Mi sono dimenticato di qualcuno Ok Uno deve rimanere già qua No In realtà non deve rimanere già là Ho sbagliato di nuovo Uno deve rimanere là Uno deve rimanere là Allora Medita su queste cose Eeeh Se io ne lascio via Eeeh Però Io faccio così 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 Quello lo lascio là Lui Lo tengo No 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 Noop Noop Io faccio così Faccio così Faccio così Faccio così Faccio così Faccio così Lui rimane rosso Beh mi sta bene Perché ovviamente possiamo fare solo così E ora Tu pensi no? Come si fa? E quando non sai come fare? Così che si deve fare? Sbench Ma che cagata ragazzi Che cagata Miracoli per fare ste cose Che cagata Oh mio dio Dobbiamo solo metterci un po' di testa Tra l'altro Dove è il traguardo? Cos'è tutta sta roba? Oh mio dio Oh mio dio Vediamo quella roba Cos'è? Love blueberries Try finding This succulent fruit Yeah Ah Che bello che bello Quindi non hanno più effetto quando fai ste cose Io faccio così Faccio proprio l'arab Ah Faccio così Cucisato Oh 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 Dovevo andare fino alla sopra? Non per forza Non per forza Ok Ti lasciamo bello Ciao Abbi Abbi cura di tuoi amici Ok Così Non ci arrivano lo stesso Oh mio dio Oh mio dio Hacker una mappa Ok Ok Mi è piaciuta sta cosa Mi è piaciuta sta cosa da Hacker Che hai fatto Ale Complimenti Veramente 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 Devo fare così Per forza Mi facciamo gli Hacker Così E Quella Frutta Devo andare a prendere la frutta Che c'è qua sotto La portiamo di Non ho detto No no Si Che fare Non posso prenderla Non mi interessa Non mi interessano i gadget Corri Ce l'abbiamo fatta Outskirts 3 Completamento del 16% Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace Mettete mi piace La pagina Facebook Tra l'episodio in descrizione Per oggi è tutto Bella